Facilitare la mobilità e il trasporto delle persone disabili aumentando il loro grado di autonomia, offrendogli la libertà di scegliere il mezzo più adatto. Con queste finalità la provincia di Trieste ha realizzato il progetto Trasporto Facile, che nasce dopo alcune ricerche fatte direttamente sul territorio e che permette di far incontrare la domanda e l'offerta di chi, affetto da disabilità, ha bisogno di spostarsi in città, mettendo a disposizione direttamente in rete tutti coloro che offrono mezzi di trasporto adeguati. Nascono così un sito, trasportofacile.net, e un numero verde, attivo dalle 9.30 alle 12.30, gestiti entrambi da Televita, partner dell'iniziativa. Contatti ai quali chi ha necessità particolari per i propri spostamenti potrà rivolgersi per avere tutte le informazioni di cui ha bisogno, con orari, costi e modalità del servizio richiesto. Sarà quindi più facile sapere come prendere un autobus o un taxi attrezzati, oppure fissare un passaggio su mezzi di trasporto privati, di associazioni cooperative o di aziende pubbliche di servizi alla persona. L'iniziativa è svolta in collaborazione con i comuni del territorio e l'azienda per i servizi sanitari numero 1 Triestina, nell'ambito degli accordi dei piani di zona 2013-2015. Trasportofacile inizierà la sua fase sperimentale, con più di 20 realtà coinvolte, circa 335 posti per disabili, oltre 170 operatori e più di 200 volontari.